bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee vi presento il bulbophyllum falcatum red rosso guardate che tipologia di fiori che ha sono delle miniature ho aspettato troppo a fare il video e poi i fiori se ne sono andati però dico adesso lo faccio adesso lo faccio qui ha finito la fioritura se guardate bene questo fiore sono innumerevoli fiori che crescono su questo stesso stelo e dovrebbe avere il labello mobile ma non riesco a vederlo probabilmente c'è tanto una caratteristica del bulbophyllum si è quello piccolino rosso se vedete è questo qui questo questo pezzettino qui piccolino rosso davanti è il labello che si muove ma ci servono degli ingrandimenti particolari non vedo se riesco a inquadrarvelo bene eccolo qui un pochino si vede guardate quanti fiori che bellezza che ha che particolarità è un film vedete che ha i bulbi cicciotti sotto questa è la fioritura che parte dalla base del bulbo a questo era in zattera e ho fatto la prova appoggiarlo direttamente sopra della fibra di cocco se vedete guardate in questo si muove viene via ecco non è che sia semplicemente appoggiato per il discorso che tante volte sono a difficoltà a gestire la zattera potete prenderlo e appoggiarlo vedete appoggiato direttamente sopra alla fibra di cocco con degli inerti serve solo per dare umidità non come sistema di coltivazione o altro serve solo per dire lo appoggiamo qui affinché abbia un pochino di umidità maggiore rispetto a quella che che posso offrire io in zattera guardate che radici piccolissime guardate di che spessore di radici si parla adesso l'ho tolto l'ho messo qui giusto per garantire la fioritura quando l'ho preso aveva delle piccole ricrescite qui come fiori abbiamo portato a fioritura abbiamo portato a completa a completa fine fioritura adesso vedrò come sistemarlo perché come ripeto le radici sono presso che niente e quindi tante volte quando avete queste tipologie di orchidee diventa difficile poterle e coltivare se non avete la giusta umidità questi preferiscono sempre un 70 80 per cento di umidità ambientale poi provvederò a sistemarlo intanto l'abbiamo preparato l'abbiamo portato a fioritura eccolo qua vedete questo non è coltivato in vaso è semplicemente tolto appoggiato qui giusto per garantire un po l'umidità quindi consiglio che vi do quando avete delle zattere che vedete che si seccano particolarmente in brevi tempi si seccano particolarmente in maniera veloce potete optare un attimo per appoggiarli in attesa di trovare poi precauzioni maggiori comunque è soddisfacente il bulbo film diciamo che diventa difficile fare errori perché ha una riserva d'acqua nel bulbo quindi state tranquilli se fate una divisione ricordatevi di lasciare almeno tre di questi bulbi quindi se tagliate dovete tagliare in una condizione tale che la pianta possa poi sopravvivere vedete come ha una ricrescita molto particolare cresce di lato cresce di sopra cresce di sotto quindi un po difficile tante volte gestirla un po ecco l'acqua questa è la zatte adesso provvederemo un po a gestire la situazione per metterla in coltivazione in misura o un pochino più più valida intanto vi ho fatto vedere la fioritura poi quando arriverò a una conclusione siccome su come poterla gestire meglio se rizzatterarla oppure se metterla direttamente in condizioni diverse ve lo farò vedere era solo per condividere con voi prima che passi il tempo la specialità la spettacolarità di questa fioritura del falcatum potete prenderla sia in zattera che in vaso potete scegliere guardate che meraviglia è spettacolare bene vi ho aggiornato questa fioritura un po in ritardo perché me l'ho persa per strada domani la faccio domani la faccio e l'ho fatta oggi bene potete coltivare in qualunque sistema se avete dubbi sulla zattera appoggiata nel vaso si presta molto come tipologia di orchidea perché il bulbo film non è che ha grandissime pretese l'importante una luminosità un po maggiore rispetto alla falinopsis e una buona umidità per il resto è molto semplice lascio senza gli aggiornamenti perché perché dopo aver fatto il video del falcatum red bulbo film mi son detto perché aspettiamo perché aspettare perché ci mettiamo a induciare ancora facciamo il lavoro che dobbiamo fare abbiamo preso quella pianta che l'ho chiede al bulbo film che avete visto che stava in vaso poc'anzi l'ho messo in zattera con il zucchero con lo sfagno la parte vecchia è questa qua sotto se vedete c'è il primo bulbo quello originale ma sta là sotto nascosto vediamo se riusciamo a farvelo vedere non si riesce sta giù 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 bella sotto c'è il primo bulbo questo è il secondo e la pianta viene su in salita quindi perché l'ho messa in questa posizione perché tanto quello che è vecchio rimane qua eccolo 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 questo è il bulbo originale questo è il secondo quindi la pianta si è sviluppata in salita l'abbiamo messa in zattera così la pianta può fare quello che vuole siccome il problema è che la zattera in casa mi si gestisce poco per via della poca umidità e se vedete non riesco a mettere neanche un grosso umidificatore perché è tutto quanto un open space quindi non riuscirei allora l'ho messa in vaso con dell'inerte sotto in modo tale che l'umidità presente nel vaso di terracotta salendo mi aiuta ad aumentare il discorso dell'umidità quindi è un gioco un gioco che facciamo con l'umidità se avete presente quando con le phalaenopsis che sono qua quando voi mettete sotto il piattino con l'argilla no no tale che l'umidità sale 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 e praticamente in questa maniera qua invece noi vi faccio un attimo vedere la cascata di fiori e in questa maniera qua con il vaso di terracotta e l'inerte sotto io darò l'acqua non solo alla zattera ma manterrò anche il vaso bello bagnato in modo tale che ci sarà un gioco di sinergia tra quello che lo sfagno mi produce e quello che il vaso mi mantiene questo perché in vista dell'estate poi d'inverno non ci sono problemi inverno è diversa la temperatura diversa la gestione è diverso un po tutto però abbiamo necessità sotto periodo estivo che arriveremo anche dentro le nostre case a temperature abbastanza elevate di mantenere un po il gioco non ho messo sfagno sotto per il semplice motivo che tanto volevo giocare un po più con gli inerti lo sfagno l'abbiamo qua quindi questo è quello che dà nutrimento alle radici abbiamo visto le radici sono non lo so se riesco come dei capelli lo dico sempre delle radici di certe orchidee sono come dei capelli quindi abbiamo questo mantiene e questo sostiene sostiene il nutrimento e sostiene l'umidità per la pianta per il bulbo film e questo mi deve solamente mantenere un po elevato il tasso di umidità la pianta sta sotto luce artificiale questa è la stessa di prima guardate non ho perso tempo io ho fatto subito il video della rizzatteratura del rizzatteramento di questa che era già una zattera a tante quando sono belli se riesco in qualche maniera a farvi vedere la meraviglia va bene non ho perso tempo ho fatto subito il lavoro se no poi faccio il video poi faccio il video e faccio alla fine dei fiori che se ne sono andati perché era troppo tardi ho sistemato tutto adesso la mettiamo a dimora la riportiamo sotto la luce artificiale grazie di avermi seguito ho fatto un doppio video in un video solo a presto